Cosmo Pharma 2016 Cosmo Pharma 2016 rincontriamo le grandi novità per quanto riguarda il trattamento dermosistemico anti-age per mantenere la giovinezza sulla propria pelle. Nel 2016 abbiamo continuato e completato il percorso sia a livello di integrazione introducendo un nuovo supporto proteico molto interessante che è la bioproteina che va a completare una necessità da quel punto di vista come sostegno nutrizionale e anche a livello dermatologico abbiamo introdotto un prodotto ricco di lipidi che si chiama Officina Pelle Lipid Nutri Cream che è una crema specifica che va proprio a fare una sorta di barriera cutanea suppletiva e aggiuntiva a quella appunto che abbiamo fisiologica. MyKlee come brand ha diverse linee, ogni linea con la sua specificità. All'interno di MyKlee c'è la linea Menemoi che è una linea basata diciamo come concetto di medicina estetica, la linea Officina Pelle che segue l'innovazione sulla glicazione proteica che va anche a gestire le problematiche dell'aging dal punto di vista anche delle pelli più sensibili. Per il futuro a fine 2016 lanceremo una linea anti-age anche per la cura dei capelli, per prendersi cura dei nostri capelli. Perché una linea tricologica e soprattutto quali saranno le caratteristiche come tricologia anti-age? Allora il concetto di anti-age è la cura quotidiana per prevenire ovviamente le cause di invecchiamento di un organo, in questo caso ovviamente del cuoio capelluto e dei capelli. Detto questo anche per quanto riguarda la linea tricologica ci sarà un approccio dermosistemico, ci sarà una linea diciamo quotidiana che sarà dedicata proprio a una gestione della prevenzione e della cura del cuoio capelluto e del capello stesso e una linea diciamo impact che andrà a gestire invece le problematiche più immediate quindi sia di perdita del capello o di problematiche legate al cuoio capelluto in senso acuto diciamo del termine, sempre come approccio dermosistemico. Nel mondo MyCli ci sono due linee molto importanti soprattutto in questa stagione 2016 e sono la Menemoi e la Officina Pelle. Officina Pelle è una linea particolarmente studiata con delle formulazioni innovative attraverso la cosmesi e attraverso la nutrizione che devono essere sempre messi assieme per ottenere diciamo un risultato del benessere e della bellezza quotidiana. Noi a breve lanceremo qui fra 10-15 giorni un prodotto per il corpo che viene un restyling che è OP pluriattivo corpo, è un prodotto brevettato con Rebo e Shinsal, all'interno c'è stata un'aggiunta di caffeina all'1% in grado poi di lavorare sulle adiposità localizzate della pelle per ottenere una pelle levigata, compatta e soprattutto idratata in profondità. Quindi il nostro obiettivo è quello sempre di avere una ricerca veramente veloce, rapida e soprattutto l'innovazione e la serietà nella formulazione del brand che è un po' la filosofia del brand MyCli. Qual è la donna che utilizza il prodotto Officina Pelle? È una donna attenta perché oggi direi che è cambiato il mondo, non basta più passare a entrare nel negozio, nel punto vendita, nella farmacia, oggi siamo sempre più informati, cerchiamo di capire attraverso a volte anche il packaging stesso, andiamo a controllare gli inci, andiamo a vedere che cosa c'è al suo interno. Pertanto la donna è una donna attenta, è una donna curiosa, è una donna che vuole sempre migliorare il proprio aspetto e curarlo costantemente perché questo è l'obiettivo, tutti desiderano vivere a lungo ma nessuno però vuole invecchiare. Entriamo un attimino in quella che è l'esperienza applicativa di Menemoi. Una linea ammirata molto sul fotorengiovanimento grazie alla ricca quantità di principi attivi, questo perché è basata sull'acido glicolico, l'acido ascorbico in biodisponibilità assoluta, con risultati immediati in confezioni pompa Ireland. È un prodotto di base che va intanto a preparare una pelle a ulteriori trattamenti che possono essere poi, possiamo dare la continuità con gli altri prodotti della linea officina pelle. Quindi per noi il protocollo è fondamentale, questo perché per un semplice motivo, la nostra linea tecnica non è basata sulla semplice crema, sì c'è anche la semplice crema ma dietro c'è lo studio. Una persona viene da me e mi chiede un consiglio, ho la pelle un po' stanca, ho dei cuori dilatati, la prima domanda che io faccio è la detersione. Qual è il tuo buongiorno del mattino? Io mi lavo solo con l'acqua, io dico no, va bene. L'acqua non è una bibita, è un dissetante, non è un potere sgrassante. Abbiamo bisogno di prodotti che sgrassano e che preparano la pelle a ricevere i principi attivi che successivamente uno applica, che sia la nostra crema o che non sia la nostra crema. Noi abbiamo i detergenti con dell'accio glicolico, un buon percentuale di persone mi dicono che pizzica, ma deve pizzicare, deve creare epidemia. Il nostro compito da tecnici oppure da dettacosmesi in farmacia è assistere alla cliente, spiegare che il glicolico ha il compito di fare questo, da non confondere con intolleranza e allergie. Quindi il primo passaggio fondamentale è la detersione, l'esfoliazione, illuminare e idratare. Il nostro prodotto dà risultato non perché siamo i primi, non perché siamo i migliori, ma perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere il nostro professor Romulo Mene e essere i primi in Italia a avere delle molecole non indifferenti. Grazie a tutti!